Uè Peter, dove mi stai portando? Dai dai che siamo quasi arrivati Ma hai preso le valigie? Ma sì, fidati, le ho prese, sono in macchina Ma qua siamo vicino a Corso Sempione Eh no, questo è odore di weekendino Ma cosa stai dicendo? Non volevi venire a Domodossola? Tacchi Figa, serio? Mi hai portato a Domodossola FM Ma dai, era uno scherzo Facciamo, andiamo a prendere le valigie Ma per andare dove? Io il treno non lo prendo Ma cosa vuole sto rompipalle? Uè, grandissimo Number one Ciao, ciao, dimmi, dimmi Ma no Ma figa, ma me lo dici adesso? Cosa? Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao